Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un durissimo attacco soprattutto ai politici che ha accusato di criticare vanamente la magistratura, di isolare la magistratura e di non svolgere il ruolo che loro compete, cioè quello di leggiferare e di far sì che la magistratura possa lavorare con tutti gli strumenti idonei. Ci vuole spiegare soprattutto i riferimenti concreti di questa polemica? Ma guardi, intanto vorrei dire che questa cerimonia, questa dedicata a un'aula che si era levato in un'oraio... Dottore Borsellino, lei ha fatto il mio figlio! In un bicchiere, ci han tenuto sempre qui, tram promesse da profeti, pane, amore e fantasia, sai che fantasia. Ci hanno detto state buoni, stiamo pensando a tutto noi, ci hanno dato dei coglioni, invecchiando i giovani. Sì, mi capirai, se poi mi girano e fanno in orbita, sì, che tu lo sai, che in questa storia ci son dentro fino al collo, ma stampatelo bene in testa che io mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Sì, mi incazzo ma non mollo. 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 Stanno comodi sul carro, e noi sotto a par da buoi, per far fuoco, serve legna, non la carta che mi dai. Sì, mi capirai, se poi mi girano e fanno in orbita. Sì, che tu lo sai, che in questa storia ci son dentro fino al collo, ma stampatelo bene in testa che io mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Si, mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Mi incazzo ma non mollo. Si, mi incazzo ma non mollo. Si, si, si. E' chiaro che io purtroppo essendo mafioso E' chiaro che io purtroppo essendo mafioso E' chiaro che io purtroppo essendo mafioso Fare questo voleto per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica Che deve essere la chiave di volta di questa situazione Per la risoluzione di questa situazione Grazie.